C'erano due tabù, uno è stato sfatato, l'altro, quello più importante, no. Il Gravina nel recupero giocato allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli ha ritrovato la via del gol dopo ben nove turri di astinenza. Non è riuscito tuttavia a centrare una vittoria che sulla Murgia, sponda gialloblu, manca ora da dieci partite e dal 3-0 inflitto al fasano sul sintetico del vicino, datato addirittura 20 gennaio. Poi solo pareggi, cinque tutti per 0-0 ed altrettante battute d'arresto. È arrivata la sconfitta pure sul campo della Putiolana, nonostante il momentaneo vantaggio realizzato da De Feo in avvio di ripresa. Un gol tanto atteso quanto inutile per il Gravina che successivamente ha dovuto incassare il ribaltone dei campani. È successo tutto in quattro minuti, ha fatto tutto cegliento per la compagine di Pozzuoli, prima ha perfezionato l'aggancio, poi ha messo la ferma sul sorpasso sia nella partita che in classifica. La vittoria infatti ha consentito alla Putiolana di abbandonare l'ultimo scalino della graduatoria e lasciare virtualmente la maglia nera del raggruppamento proprio alla squadra di Marco Gaburro. Momentaccio insomma per il Gravina che ora guarda tutte le rivali del girone H dal basso verso l'alto. Sono giorni di profonda riflessione intanto tra i vertici societari e non sono da escludere decisioni forti per dare la scossa ad una squadra che ha vinto soltanto tre delle 22 partite giocate, una sola, quella già citata contro il Fasano, con Gaburro in panchina. Numeri inequivocabili che non possono essere giustificati solo con le difficoltà incontrate per le lunghe soste provocate dal Covid. Il Gravina nel frattempo non scenderà in campo domenica prossima. Il derby casalingo contro il Nardò è stato rinviato per le positività di alcuni componenti del gruppo squadra Neretino. Il ritorno in campo è fissato per il turno infrasettimanale del 14 aprile quando il giallo-blu saranno di scena al D'Angelo nel derby della Murgia contro il team Altamura. La società sul fronte mercato è alla ricerca di un elemento senior per rinforzare l'attacco. Nei giorni scorsi è circolato il nome di Andrea De Iulis, ex nocerina, che però ha firmato con la Scaffatese. Da segnalare infine un sondaggio effettuato con Miki Scaringela attualmente in forza alla Fidelis per riportarlo al vicino. Trattativa complicata ma non impossibile. Le vie di un mercato che chiuderà i battenti giovedì prossimo, si sa, sono davvero infinite.